buongiorno a tutti oggi preparo dei panini con il lievito madre con la farina integrale mi occorre un chilo di farina integrale 300 grammi di lievito madre sale un mezzo cucchiaio di miele e acqua quando basta vado a mettere il miele il lievito madre 300 grammi di lievito madre il sale e acqua il lievito madre lo il lievito Grazie a tutti. Dopo averli impastati si lasciano lievitare fino al raddoppio del volume. Quando sarà raddoppiato il volume si preparano i panini. Dopo che hanno raddoppiato il volume li vado a tagliare. Così preparo i panini. Dopo averli impastati. Dopo aver fatto le forme li lasciamo lievitare ancora fino al raddoppio del volume. Dopo che hanno raddoppiato di volume e hanno lievitato bene li forno a 180 gradi fino alla cottura. Dopo 25 minuti di cottura eccoli pronti. La cottura è venuta morbida dentro e croccante fuori.